Un laboratorio per creare, costruire e guardare al futuro. A Imola è stato inaugurato FabLab, un'esperienza di collaborazione fra scuole e privati che hanno costruito uno spazio all'interno dell'Istituto Tecnico Alberghetti per dare la possibilità agli studenti di sperimentare nuove tecnologie e strumenti per inventare prototipi e sviluppare idee. Uno spazio d'incontro in cui potranno interagire e collaborare insieme ai ragazzi, aziende, privati e tutti coloro che vogliono mettere esperienza e competenze a supporto di FabLab. Con questo laboratorio la scuola si apre non solo al territorio ma è in condizione di dare competenze tecniche avanzate ai propri studenti. Il laboratorio sarà aperto per i nostri ragazzi e l'iniziativa è sicuramente una delle poche, una delle prime in regione che cerca appunto di portare i livelli più alti di tecnologia nel curriculum della scuola. Questo è Robotkea, è un robot, un progetto di telecontrollo, infatti indossando questa armatura il robot riesce a replicare tutti i miei movimenti anche ovviamente a distanza, quindi tramite internet. Questo è un prototipo che abbiamo realizzato in una giornata, praticamente si tratta di una macchina per creare cocktail. Ho dei carrelli dove ci sono le bevande, faccio l'elenco delle bevande che ho, posso selezionare il cocktail, ad esempio non so Jack Daniels e Coca Cola, seleziono il cocktail e automaticamente il software calcola la quantità giusta di liquido da erogare e lo mette qui nel bicchiere, molto semplicemente. Grazie a tutti.